Certo, le ferite, quelle ferite non si rimargineranno mai, ma credo che uno sforzo di verità possa essere, se non consolazione, un passo in avanti nel capire cos'è successo negli anni 70. Fasanella, ecco, Sergio diceva sappiamo com'è finita, non sappiamo com'è cominciata, è questo il problema al di là delle ricorrenze, delle celebrazioni di questo centennale e di altri discorsi sul terrorismo? E' questo il problema dell'Italia, capire com'è cominciata questa... Sì, direi di sì, Sergio Seggio giustamente cita Giovanni Pellegrino, il presidente per nove anni della commissione parlamentare di inchiesta sulle stragi e sul terrorismo. Giovanni Pellegrino ha fatto il punto del suo lavoro e ha ricostruito il filo di una storia... Il fatto che avete scritto insieme questo libro, Segreto di Stato, in cui si ricostruiscono... Sì, certo, è un libro intervista in cui Pellegrino, di fronte alla impossibilità di arrivare a una conclusione in qualche modo condivisa per l'incapacità delle forze politiche di fare i conti con questa storia, incapacità che continua tuttora, ahimè, E diceva Giovanni Pellegrino ha ricostruito il filo di una storia. E l'inizio è certamente quello che diceva Cazzullo, cioè la presenza di un'anomalia in Italia, cioè il più forte partito comunista dell'Occidente, in un paese libero, collocato in un sistema di alleanze politico-militare e occidentale che però aveva rapporti, legami finanziari, politici, ideologici con il nemico e cioè con il mondo sovietico. Però io completerei questo ragionamento dicendo, Cazzullo prima diceva, non ci sarebbero stati gli anni 70, gli anni di piombo, se non ci fosse stato anche il tentativo del Partito Comunista di Enrico Berlinguer di emanciparsi da quella storia, di emanciparsi dai suoi legami con il mondo sovietico e di diventare una forza del socialismo europeo. Ecco, Rosario Priore, anche lei parla di verità che non possono essere rivelate, cioè appunto si conoscono i fatti ma non il contesto. Questo a voi magistrati è mancato indagando? Secondo me è mancato, è mancato molto, cioè ci sono un'infinità di fatti nella nostra storia recente di cui non si comprende assolutamente il contesto, ma a dire la verità non si comprende nemmeno come siano effettivamente andate le cose. Io potrei fare tanti esempi, però c'è un indicibile, c'è qualcosa che non si può ancora rivelare. Questo raccolgo quel messaggio di Curcio che dice che c'è un patto, un patto scellerato tra le istituzioni e le formazioni terroristiche, un patto inteso a non rivelare come sono andate veramente le cose. Questa affermazione ho avuto modo di, in un certo senso, verificarla sul campo, verificarla su episodi come Ustica, come Moro, come la strage di Bologna. Tutte le stragi, c'è dietro un qualcosa che non si riesce a rivelare e non si riesce a rivelare quello che sanno le istituzioni. Questa è la cosa più grave. Le istituzioni sanno come sono andate le cose, come si sono svolti i fatti, quali erano i mandanti, ma nessuno può parlarne. Io non so adesso se voi avete affrontato altri temi, però io potrei parlare di quello che è successo nel caso Moro, in particolare nella strage di Bologna. Tutti quei fatti che sono avvenuti a fine anni 70, primi dell'80, dove noi percepiamo che c'è una verità diversa, che però non si può dire. Allora, io la interrompo qui, è molto interessante quello che sta dicendo, ci torneremo tra pochissimo. Adesso ci fermiamo per un istante.